Previsioni, WrestleMania 34, Scena 34, Take 34 Ma che bebravo Allora, a me sembra Ditemi anche voi se siete qua Chi siamo? Sul canale di Sony di Bolz Tu sei, stronzo, no, tu sei Matteo Mi sembra giusto, hai una maghetta che non c'entra un cazzo, ma è bella Stai a vedere la maghetta ai nostri tifosi Non sforzarti tanto, ma è un dottore grande Allora, e oggi siamo qua, finalmente, con la previsione di WrestleMania 34 Perché domenico 8 aprile Al Mercedes-Benz Superdome Dove hanno fatto anche WrestleMania 30 Andrà in onda, la 34.5 edizione Dello Showcase of the Motor, il Grand Theft of the Mall Fastly Bravissimo, Fastly Allora Six Pack Challenge Meta E G-Style Jones Ah no, quella era Fastly Allora, abbi Cominciamo dal kick-off Da I, da I Perché comunque sono due ore e abbiamo tre mesi Allora, Andre Deja e Memorial Battle Royale Quest'anno più brutto di così non lo potevano fare L'interesse è sotto alle stelle Sotto alle scarpe Più che altro So già che è il mio preferito Per chi non lo sapesse ancora, lo dico ogni video Baban Cobby non la vincerà perché l'ha già venita due anni fa Bello Io non ho tanto da perdere in questo match qua Io vi dico solo Io spero che vinca Dolph Ziggler Perché io ne ho visti tanti in WWE Perché lui la WWE è segnata nel 2005 Ne ho visti tanti in WWE gestiti in mano Ma come Dolph Ziggler? Faccio fatica a trovare Cioè, uno che viene usato Neanche un mese fa Era nel main event di un PPV Per il titolo WWE Adesso sta nella Nella Battle Royale Nella Battle Royale Nella Battle Royale Nella Battle Royale E ha fatto fare di cui Per Zango Oppure Io dico Big Ass Io infatti Avrei altre due cose Che sono divise in due Ve lo spiegherò dopo Ovvero Secondo me potrebbero vincere anche Big Cass Grande Ritorno O anche Bray Wyatt Così Da fare un finale Con Matardi E vincere Bray Wyatt Ma C'è anche un'altra cosa Da mandare Ma ve lo dirò dopo Nel primo match della main card Comunque Io mi aspetto Una grandissima Battle Royale Piena di energie Dinamismo E perchè no Ancora te una di CM Punk E lei cosa si aspetta? Beh Il ritorno di CM Punk Che è ormai una cosa scontata Sì Nella battaglia dopo Ed eccoci qua Allora Nella Women's Battle Royale match Inizialmente Annunciata Come La battaglia Dedicata a Fabulous Mula Ma c'è stato un Disguido? No Non disguido Vuoi solo disguido C'è stato Come dire Un accanimento Che ha detto Sulla WWE Nei social Neanche Carola Cracko Quando ha fatto La Margherita Perchè diciamo Fabulous Mula Grande lottatrice Ha fatto Ha reso grande La WWE Più la WWF Però Dietro Dietro le Quinte Era un po' Una donna di merda Nel senso Una tutta Esatto Diciamo Facili costumi Esattamente Le hai detto Nella maniera Più elegante Come ci poterà dire E quindi Adesso è solo Women's Battle Royale E Women's Battle Royale Punto La finale Purtroppo Di questa Women's Battle Royale È già scontata Con l'uno contro uno In finale Tra Si Tra Charlotte Scusate Tra Sasha Banks E Bayley E E Quindi Io mi vedo Una vittoria Di Bayley La cosa bella Tra Sasha Banks e Bayley Dato che In questi ultimi due anni La WWE Soprattutto la Divisione Femminile Ha avuto La prima Scusate La prima Royal Rumble Il primo Premier League Il Premier League Il Premier League Il Premier League E la SmackDown Sono sempre stati questi primi match Non hanno mai vinto niente Adesso Una Una delle due Riusciva a vincere Questo Ambito premio Ambitissimo Secondo me Lo vinceva Bayley Punto Se ci sarà qualche ritorno Sarà One night Onley Sì Scantale Uguale Va bene Adesso finalmente Arriviamo Al vero Main event No Main event Al main event Del kickoff Esatto Quello che spero che sia Quello che spero che sia Il main event Il kickoff Ovvero Sedic Alexander Contra Mustafali Per decretare Il nuovo campione Dei pesi leggeri Nel torneo Dei pesi leggeri Allora Qua abbiamo Il mio preferito Dei pesi leggeri Quello che è stato Alexander Contra un ottimo Contra un ottimo peso leggero Perché sono molto contento che puntano su di lui Perché è uno dei miei preferiti Io vedo Mustafali Sono molto contento che questi due siano in finale Perché avevo una paura Fottuta che arrivasse in finale Di Avogulak Che Dalle grandi dote fisiche Atletiche Più che l'avano già scontrarsi Sarese Alexander E Avogulak Esatto Quindi è un po' ripetitivo Esattamente E Sono contento che Insomma Vabbè Quello è Quello è Di fatto E Io spero Ovviamente Essendo il mio cruiserate preferito Che vinca Sarese Alexander La cosa che mi dispiace In questo match qua E' che sia Stato relegato Nel kickoff Però Guardando La match card Non c'era tanta scelta Nel senso O questo o chi Io saprei benissimo Che anche perché Cesaro E Debar Contrastoma Nei tre punti di domanda Non l'avrei neanche fatto Comunque Io spero vinca Sarese Alexander In un probabile match Che molto probabilmente Sarà il più bello Uno dei Tre match più belli Di tutta la serata Lei cosa dice Sì Anche secondo me Anna Tatangelo No secondo lei Chi vince No Spero Sandrick Alexander Perché era un po' che Mi piacerebbe Vederlo come Come campione Mustafa Lì a me E' bravo però Non mi piace tanto C'è un E' un po' che E' un po' che E' un po' che è Non si vede L'ultimo match che l'ha fatto Stava E' un bel tag team Chi lo sa Chi lo sa Quindi secondo me E' un bel E' un bel Un bel Vestermenia Che bisogna scoprire Che bisogna scoprire Vestermenia Quella cosa lì Sì sì Stromo Stromo Poi abbiamo Un altro Poi andiamo avanti Un altro Abbiamo Gli Usos Che difendono Contra New Day E Gli Bloodstream Brothers In un Triple Threat Tag Team Match Per il Smackdown Tag Team Championship Allora Questo match Era ampiamente pronosticabile Già dal finale Del match A Fastlane L'avevamo anche detto Ma perché noi siamo bravi Ma perché Questo mi aspetto Un match dinamico Con tanta azione Perché no Poteva anche fare Wolverine No Dinamico Molto bello Anche perché abbiamo Gli Usos Che non deludono mai Che non deludono mai Che riesceva a fare un bel match Anche in un Panjali Prison E abbiamo I Bloodstream Brothers Che per la prima volta Gli vediamo in un match I pay per view Contro dei non job Esatto Soprattutto questo Ma ha piaciuto più Match i pay per view Sì E quindi Io vedrei Benissimo Una vittoria Degli Usos Perché New Day Non penso vinca il titolo Perché È Tre anni che vanno direttamente Qua E comunque L'hanno anche vinta E I Bloodstream Brothers Li vedo ancora prestino Io Ve lo dico già chiaro e tondo Fare vincere i Usos Per dopo Il prossimo preview Ovvero Backlash Che sarà Dual Brand Ovvero si chiama SmackDown Fare i Usos contro i Bloodstream Brothers E perché no Fare vincere i Bloodstream Brothers E perché no Dopo fare una faida Con i Santi che salgono da NXT Così Ho già i Da qua fino a quattro mesi Succedeva niente di tutto questo Sì secondo me tipo Bloodstream Brothers Devono comunque togliere i titoli di Usos Sì Sono neri Perché Come hanno detto anche nel promo contro New Day Loro non sono mai andati a restare meglio Nonostante meritando Sono sempre stati relegati nelle kick off Nelle ultime passate tre edizioni erano nelle kick off E loro sono un team che a me è sempre piaciuto E quindi Meritono di vincere questo match qua Quindi io dico Usos Lei dice Bloodstream Brothers Perfetto Adesso abbiamo un altro match Ovvero ritorniamo dalla parte di Raw Abbiamo The Myths Che difende il titolo intercontinentale Contro Il Redemone Fimbalo E il computer umano Seth Rollins Il computer umano L'ha capito Computer Umano Allora Cosa dire di questa faida? A me devo dire Una delle faide che mi è piaciuta di più di Raw Anche perché non è che c'è questa vasta scelta Non puoi dire che ti ha piaciuto Cesaro e DuBardo Comunque Si è una faida Comunque Le faide a tre di solito Non è che sono sempre Grandi Come dire Grandi scontri fisici Di solito si cerca sempre di Di solito nelle faide a tre Ci sono sempre due phase e un heal Per fare in modo che i due phase si scontano E Lil che cerca di mettere Zizagna tra i due Allo stronzetto E' quello che è successo E in tutto questo DeMitz ha fatto un bel ruolo Ma DeMitz difficilmente delude Nonostante Non è che DeMitz ti sta antipatico Non perché non sa fare il proprio lavoro come ci da male Ma perché Perché fa bene Lil Cioè DeMitz fa molto bene Lil Fa molto male il phase Cioè nel senso è uno che O fa Lil o non fa niente Johnny No Johnny Mundo Esatto Come Tommaso Ciampa Esatto Invece Fimbalo Ha Settaronis Vabbè due grandi esperti Dele ring Ragazzi stiamo parlando di Tre grandi lottatori Tre tre migliori lottatori di Raw Che molto probabilmente tiravano fuori un bel match E tra l'altro questo match qua Era anche andato in scena Per chi se lo ricorda Nella puntata di Raw Quella dove c'era un force contender Per il titolo intercontinentale Di DiNambrose E c'erano proprio questi tre lottatori Quando c'è stato il draft DiNambrose è andato a Raw Con il titolo intercontinentale Che alla fine ha vinto appunto DeMitz Diventando dopo campione intercontinentale Dopo che è arrivato Bray Wyatt Ha interrompere la distruzione Massacrata Fimbalo Va bene Io dico Non lo so perché E' un po' dura questa cosa E' dura perché DeMitz Ha attivato fuori il discorso Del record Dal campione intercontinentale Che batterebbe La settimana dopo La resta in mania Esattamente la domenica dopo E abbiamo un Fimbalo Un tiro lo deve avere Non è che può fare Prima o poi Il titolo deve avere E abbiamo anche Un Set Rollis Che è un po' lontano Dal titolo di coppia Da un po' E devi trovare quella linfa lì Ma tutti questi due lottatori Hanno sempre Tra virgolette Lo stesso minimo denominatore comune Che si chiama Roman Reigns Perché è lampante Come il sole che sorge Che è Roman Reigns Ragazzi ve lo dico già adesso Vincerà il match contro Lesnar Ma Anche perché Poleyman è molto bravo Ha fatto un bellissimo discorso L'ultima puntata di Devo Ma ha già spoilerato Che ha detto che Lesnar farà ciao ciao Dall'Octagon La Madonna Ciao Dall'Octagon A UFC Quindi è già spoilerato Che Lesnar è da UFC Quindi ovviamente Quindi molto probabilmente Finballo potrebbe Riacciuffare il titolo Che non ha mai perso Dato che comunque Finballo e Reigns E' un match che si è già fatto E Reigns Cioè siamo sull'1-1 E se trovi inizia Reigns Potrebbe essere qualcosa Con lo Shield O qualcosa di questo genere qua Potrebbe essere questa La cosa interessante Quindi io mi sento Un po' spezzato Mi sento di dire O Demitz O Finballo Ma una volta che siamo a Restemmenia E bisogna puntare dritto Io dico Vince Finballo Anzi no Vince Demitz Anche io dico Demitz Anzi no Vince Finballo Eh ragazzi Sono un po' Siamo un po' Bervanti Siamo un po' bervanti Secondo me Vince Finballo Dai Dai, dai, dai Vince Finballo Io Demitz Va bene Dai, dai Vincenzo Vincenzo Dai Quindi vincenzo Finballo Allora E andiamo al Settimo match Dico la scarita Che stiamo seguendo Randy Orton Che difende il titolo Stati Uniti Contro Roser, Bobby Roode Il grandissimo General Mall General Mall che può Vantare Ad avere al suo fianco Uno dei due Sing Brother Può vantare Esatto E Roser che può Sta a vantare Ad avere Ed è in inglese Al suo angolo Che può Al suo angolo Abbastanza Relativo Perché se non ho fatto a fuori Non ciò squalifica Ogni non può entrare a uscire Nel caso Comunque E lo stavamo giusto che Il quadrato Non ha gli angoli Esattamente Ma ha i lati Allora Cosa dire di questo match qua Se Io mi gioco Che questo potrebbe essere il match Più brutto Di tutto Di tutti questi 13 match Più brutto Perché Abbiamo Lottatori Che non hanno un vastissimo Parco mosse Cioè per dirvi Quello che alla fine Basta pensareci Quello che abbiamo mosso E Busert Ho già detto tutto È un match Dove si giocherà Tanto di rapina Considerando che abbiamo A Randy Orto Che ha una mossa Più 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 bella Che arriva quando Vuole lui Rude Che è un face Ma Anzi E quindi Anche lui comunque Di rapina è capace Poi abbiamo due hill Che andare di rapina È il loro lavoro Esatto Basta pensare che Il suo titolo Daryl B Ha vinto così Proprio contro Randy Orto Esattamente Io comunque Vedo una vittoria Di Randy Orto Semplicemente perché Ha vinto il titolo un mese fa Finalmente ha trovato Il Grand Slam Champion Ma Alden Penso che gli faranno vincere Un titolo nei prossimi cinque anni E E A Ruser Non può fare una carriera Solo sul titolo Stati Uniti Perché ha vinto solo quello A Rude Appena ha perso Come The Miz Un po' come The Miz Esatto A Rude ha appena perso Il titolo Stati Uniti Non trovo il senso logico Di farvi vincere Il titolo Di nuovo Di nuovo Di nuovo A questo punto A questo punto Facevano vincere il titolo Randy Orton Qua E Appunto E quindi siccome vincere Randy Orton Non penso ci siano grandi dubbi L'unico che forse potrebbe vincere Se proprio proprio è A Rusev Ma non penso a Ehm Sì Condivido Anche siccome vincere Randy Orton Sì E la metto lì Da tre Archeio Cioè Dico tre tutte alla fine Tipo una Ah pensavo uno sull'altro Non lo so Una A Finn Balor Sì E una Demogula No Una Gendermal Una No Un Gendermal per ultimo Perché stiene a lui E siccome una Gendermal Una Randy Orton Se la fassi adesso Se fai uno dopo l'altro E poi schiena l'ultimo Che entrano tutti pian piano su Ah ok No secondo me invece Sembra una cosa stupida Eh Ma secondo me fa una Archeio doppia Che non si è mai vista Se ci pensate Una doppia Archeio Potrebbe fare Blas Gendermal E a Rusev Perché no? Poi due same brothers Visto che c'era uno Esatto Poi andiamo quindi Prima vincere Randy Orton Prima vincere Randy Orton Bravissimo Adesso andiamo Ritorniamo dalle women's Sì Abbiamo Alex Sablisi Che difende il titolo Contro Nia Jax Pochissimo da dire In questo match qua Finalmente abbiamo Questo scontro Che va avanti Da tantissimo tempo Addirittura Si parla di Ottobre Quando c'era No Mercy Fatal Faveway Con Nia Jax Che Alex Sablisi Voleva essere difesa Tutte le cose qua Signor amiche Esatto Stranzate Ehm Unia Jax Che non Questo qua Per chi solo ricorda È un po' Obbligo di vincere questo titolo qua Anche perché Se non lo vincereste meglio Dopo tu Raffaida che sei carato Non lo vince più No infatti Esatto È un po' come Barry Wilde Quando ha perso il titolo WWE dopo tre settimane Esatto Con Randy Orton E adesso Ha fatto un bellissimo Ultimate delissimo match Contro Mattardi Ehm Quindi secondo me Vincere Jax Senza problemi Match che Potrebbe anche durare Meno di 5 minuti Potrebbe essere anche Uno squash match secondo me No Perché Interferirà Ehm Proprio perché interferirà Mickie James Sarà uno squash match Tipo Eh Daniel Bryan contro No dai Secondo me sì Secondo me sì No ma tanto chi se ne fai io Secondo me sì Poi Secondo me vincere Jax Secondo me è Perfetto Quindi nuova campionessa Devo Termini E poi abbiamo Adesso abbiamo gli ultimi 5 match Quelli più tosti Abbiamo un dream match Un mio dream match Ovvero ma un dream match Penso di tutti Charlotte che difende il titolo Smackdown Women's Champion Contro Asuka Asuka che Come avevamo pronosticato noi due Ha approfittato del Del fatto di Decidere contro chi andare Anche perché Asuka contro Alexa Villa Si sarà già visto Ehm Un match Da sogno Una faida Non costruita Ehm Perché nel senso Abbiamo solo visto Appunto A Fastlane Quando lei è arrivata Sì E ha fatto un faccia a faccia Con a Con Charlotte E l'ultima Punta di Smackdown Quando lei è arrivata E sono dette 2 3 cagatine Ehm Che si capisce niente Quelli di quello Di cui dice Asuka Esatto Ehm Perché non sa Non lo sa neanche lei Non lo sa il sabbo Se non impara a memoria Impara il sabbo Ehm Ehm E quindi Una Sì Una faida Che non Che non è stata costruita Appunto Ma semplicemente Una faida che non dovrebbe essere costruita No infatti Perché due phase Ehm Cosa gli facevi fare Una prova una Smackdown Tanto la faida ragazzi Si farà Quando Asuka E qui dico mio pronostico Vincerà Contro Charlotte Andrà a Smackdown Ovviamente non è che può stare Dopo di finire la Smackdown E da lì si farà il rematch D'obbligo Di diritto di Charlotte A Bad Place E da qua si farà una faida Con provabile turnille di Charlotte A meno che non muoia Esatto Eh Con provabile turnille di Charlotte A meno che Eh Arriva Barbara D'Urso Che sapete E gli mette sempre quel trapino No A parte i scherzi C'è sempre un'incognita Questa incognita qua Si chiama Miss Molynebec Carmella E qua Carmella Non so Secondo me Io vi dico Potrebbe fare Potrebbe vincere la giuga Dopo un match Vincere Secondo me vincere la giuga Farà un match Secondo me questo match Sarà un match anche da 20 minuti Proprio ve lo dico francamente Il match Può andare oltre 20 minuti No Oltre no Tra i 17 e 20 minuti Comunque un bel match Bello sostenuto Molto stanca Arriva Carmella che incassa Ma fallisce Anche perchè Carmella è campionista Io spero Per un'unità Sì io quasi quasi Paura che possa rovinare il match Più che altro Amore in the bank Non è che manca tantissimo Manca due mesi Amore in the bank ragazzi Non è che manca tanto E quindi lo dico alla battaglia di Asuka Tu dici Asuka però E senza la Senza incasso Cioè spero più che altro Senza l'incasso Paura che possa rovinare il match E Spero possa incassarlo In qualche altro momento Esatto 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 E Che può sempre vincere la battaglia Allora Come la trovate dietro Esatto Poi abbiamo Abbiamo Sami Zayn E Kevin Owens Kevin Owens Scusate perchè sono due Contro Shane McMahon E Finalmente Il vittorio di Zion e Brian Con una stipulazione speciale Che se Sami Zayn e Kevin Owens Vincono Torneranno a Smackdown E se invece perdono Arriveranno i scienziati Speriamo No Allora Questo E' uno dei match Che se uno ci pensa E ci sta il contro Eh Lesnar contro lei Ma alla fine Il vero uno dei match pietesi Di WrestleMania E' questo qua Ecco d'esto Esatto Per semplicemente Vittorio di Dead and Bragan Dopo tre anni L'ultimo match che aveva fatto E' la WrestleMania 31 Esatto Fatalità Vincendo il Il titolo intercontinentale Eh Questo match qua Un match che io attendo molto Come tutto il mondo Eh Un match che finalmente Ha avuto una sua conclusione Un match molto atteso Anche perchè la FAI dava avanti da Eh Direi agosto Sì Perchè avevamo quelle gestrali Contro Kevin Owens Con Con Shane McMahon Abitro speciale Da lì è nato il tutto Da lì si E' arrivato Sammy Zane Esatto E siamo finalmente arrivati Nessuno sapeva come finire Che sta a fare da qua Nel modo migliore Ovvero Il General Manager E il Commissioner Rispettivamente Daniel Bryan e Shane McMahon Contro i due che hanno Hanno rotto il cazzo Da agosto Tra virgolette Ha rotto il cazzo nel senso giustamente Ehm Perchè quello che dovranno fare E' da agosto fino a qua E' quindi adesso Vedremo chi vincerà Secondo me vincerà Daniel Bryan e Shane McMahon Ma vi dico francamente La Cos'è che rida lei? Ma secondo me La percentuale Di vittoria Sta Daniel Bryan e Shane McMahon 60% Kevin Owens Sammy Zane 40% Non vede una grandissima Cioè non è scontato Come la vittoria di Reigns Ehm Ehm Ma se dopo Dovesse roberta Su te cosa Se dopo Dovesse Se Kevin Owens Se ci ambizioni vincono Si vantaranno appunto la vita Di aver battuto Daniel Bryan Nel match del suo ritorno Cioè più che altro Tutto sta Quando fanno draft Perchè se fanno Ah dici che draft ha loro Esatto Perchè anche Perchè non vanno più E non è che vanno a NXT Quindi Quindi secondo me Esatto Quindi secondo me Quindi secondo me Preparati Cedric Alexander Preparati Quindi secondo me Vinceva Ehm Shane McMahon E Daniel Bryan Ma attenzione Secondo lei? Ehm Allora Ehm Volevo aggiungere una cosa Che avevi detto prima Sì Durante la La costruzione del match Si Si Pensava Che che si potesse fare Tipo Daniel Bryan E qualcun altro Contro Perché c'erano i I batti vecchi Tra i due Questa cosa qua Ehm Forse anche meglio Così Come hanno fatto Con Daniel Bryan La conclusione più ovvia E più giusta Ed è anche giusto Eh Fare un tag team match E questa cosa la riprenderò Anche quando ci sarà Il match di Vandalogica Il prossimo di cui Discuteremo Sì Per fare in modo che comunque Daniel Bryan Farlo subito Fare un match singolo No Non penso proprio Almeno a Shane McMahon Che comunque può riposare Può fare queste cose Eh appunto Adesso andiamo Ehm Anche io dico No io dico Sami Zayn e Kevin Owens Perché non Secondo me Non Non è il caso Di farli andare subito A Ro Sì Ecco io farei un match Più che altro Kevin Owens viene già Cioè Viene da Ro Esatto Quindi io comunque farei Ehm Tra virgolette La concluderei a backlash Con un match Un forse singolo No io ho anche qua Però bisogna vedere Un po' poco per finirlo Ok Con questo carisma con un po' di più Eh no Con questo carisma con un po' di più Ok va bene Perfetto E poi abbiamo L'undicesimo dei tredici match Abbiamo Ronda Rousey Il debutto di Rowdy Ronda Rousey E La faccia da culo Quartengol Contro Triple Age E Stephen Embrough L'Authority Io adesso Vi fermo un attimo In silenzio E vi rimetto una match card Io non penso che ci sia altro da dire Abbiamo Un quattordici volte Campione di WB Tre Polici Quattordici volte campione di WB E tanto altra Vincitore della Varia Rumble Eccetera Abbiamo Stephanie McMahon Che è inutile Mi potrei anche fermare qua L'ultimo mesco fatto era Rest & Main Sì scusate A Sabore 2014 Contro Bribella Comunque Stephen Embrough Potrei anche fermarmi qua Poi abbiamo Il general manager di Row Grandissimo Lottatore di WB La storia dell'WB Quartengol E il debutto di Ronda Rousey Basta Cioè non penso che bisogna dire altro Per carriere in questi match qua Match costruito molto bene Sono stati intelligenti a non far vedere Ronda Rousey ogni settimana Se no perdeva quel non so che Io vedo una vittoria ovviamente di Ronda Rousey e Cortengol Anche se E per i stupidi cretini che non abbiano capito Ronda Rousey non farà la part time Adesso sarà membro ufficiale delle roste Quindi aspettatela ogni settimana Aspettatevi di vedere Ronda Rousey ogni giorno Ogni giorno Vostre sogni Ma secondo me potrebbe anche vincere Non so tipo Stefani con Uno schienamento strano Una cosa così Non lo so perché comunque Io farei subito Ronda Rousey Per farle vincere il primo match forse Eh sì esatto Ma dopo magari fai Fare un calvario su di lei Tipo Non farla mai arrivare al titolo Queste cose qua E quindi io vedo una vittoria di Cortengol E Ronda Rousey Con ovvio schienamento di Ronda Rousey Stephanie McMahon Perché appunto che aveva la famiglia Sì 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 Lei è d'accordo? Sì però io sono comunque un po' incerto Molto bene Adesso abbiamo Andiamo al dodicesimo match Uno dei match più certi della match card Ovvero IL Dream match Tra AJ Styles Che difende il titolo Contro il vincitore della Vagia Rambo 2018 Shinsuke Nagamura Nagamura Ni Tu Pace Allora Eeeh AJ Styles contro Nagamura Basta Niente da dire Esatto Cioè E' uno dei miei due match Ma come prima Tra Shinsuke Uno dei match di tutti Andatevi assolutamente a vedere Il match che hanno fatto La Ninja Panpara Wrestling Che è Fantastico Io spero che facciano quel match lì Che hanno fatto la Ninja Panpara Wrestling Sarei contentissimo Magari qualcosa di più Eeeh L'unica L'unica Cosa che potrebbe rendere brutto questo match qua E' Nakamura Che deve tirare fuori Il suo miglior match Perchè finora non è che ha fatto un match della Madonna Deve tirare fuori veramente un bel match Nakamura Eeeh Secondo me comunque vinceva lui Sono abbastanza convinto che vinceva lui Anche perchè Eeeh Secondo me è arrivato il momento di mandare G-Stry Dal lato rosso Eeeh Si è vero Eeeh Con appunto Eeeh Il dart che vi dicevo prima Quindi Nakamura Eeeh Qua Nakamura abbiamo lo stesso discorso di Nagex Se non lo vince con la vittoria della Rumble Il titolo WWE Anche perchè sinceramente Non vedo un rematch qua No Eeeh Cioè secondo me questo qua è proprio un rematch Che si fa a restermegno E basta Non si farà più questo match qua O si farà comunque Tra un anno quando sarà Eeeh Non vedo un rematch a me Un po' come è stato ricalizzando Eeeh Esatto Esatto Non vedo un rematch a breve Comunque vedo un Nakamura vincente E il G-Stry che A mettere le figurità Tra virgolette le figurità Eeeh Comunque face contro face Uno di due dovrebbe tornare È un po' difficile Esatto Uno di due dovrebbe tornare E non è il momento di far tornare Nei Styles Nei Nakamura No infatti stanno andando bene così Quindi io dico Nakamura Anche io dai Va bene Adesso abbiamo L'ultimo match O presunto tale Ovvero Lesnar Che difende il titolo Contra Roman Reigns Fai la costa vita molto meglio Di come l'avevano costa vita Nel REST per REST MAI In questo match qua Ovvero delle mie suce Perché dico Che secondo me In questo match qua È immorale Immorale non ti fare Romare insieme Perché c'è tanta gente Che dice Io voglio che il titolo Venga difeso ogni settimana Ogni paper view Ogni settimana no Ogni paper view Beh con ciascino Ogni paper view Che il campione Sia sempre presente Chi difeta E Lesnar No non ha senso Cioè Ragazzi Lesnar difende L'ultima volta che ha difeso il titolo Era la baghia Rumble Lasciamo perdere Come era quel match lì Inguardabile Dopo dobbiamo andare A No Mercy Come era quel match lì Contra Strowman Inguardabile Dopo dobbiamo andare A Summerslave Come era quel match lì Bello Sì ma non grazie a lui Perché quel match lì Non ha fatto niente E quindi Io ti farei In salinesima potenza E secondo me Vincerà lui Senza nessun problema Anche perché Come hai detto prima Lesnar Va andrà in UFC Per fortuna Così ce lo abbiamo dei coglioni Anche perché Non è che sentivamo la sua mancanza Non c'è mai Quindi la sua mancanza Si sente sempre Io non la sento La sua mancanza Comunque avremo finalmente Un titolo difeso Ogni Siccome anche ogni settimana Perchè Reigns Poteva anche fare L'open challenge Conoscendolo Perchè comunque Lui E' uno che è sempre Tombattivo Di Smyard Di Smy Destiny Dragon Ball Perfetto 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 Comunque Se mai vince Reigns Penso ci sono dubbi su questo No 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 Carmella potrebbe comunque Incassare Esattamente Allora Capito Lesnar Allora Sta' attento Adesso abbiamo i due bonus Ovvero Ah Il concerto di Elias Che Vabbè qua Elias ha detto che farà un concerto E di sicuro verrà Interrotto da qualcuno E chissà qualcuno lì Secondo me sarà The Rock Cioè non penso che ci siano Altre opzioni The Rock arriva Insulta Elias E lo picchia un po' Insulta a sua mamma Della chitarra Stiamo parlando E fa il suo discorsetto E molto probabilmente Dopo quel discorsetto lì Dira probabilmente Il Quante persone ci sono Gli spettatori E poi abbiamo John Cena John Merenda E Undertaker Contro Undertaker Allora Questa cosa mi è molto piaciuta Semplicemente perché È John Cena Contro Undertaker Un match che se ne parla Da dieci anni Secondo me Faranno un match Che sarà un po' Qua veramente sarà un po' Scimus 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 Contro Daniel Bryan Perché Undertaker Arriva all'improvviso Fa una mossa Allo di Stavro Giussina E l'anno prossimo Vestame 35 Che si farà A New York In New Jersey Al MetLife Studio Dove hanno fatto Vestame 29 Si concluderà Il tutto E facendo le rematch Così Undertaker ha un anno Per riposare Quindi Questo match qua Che si farebbe L'ipotetico match Che si farebbe adesso Non ha Non subisce mosse Corre con La chiusura Della sua Della streak Con la vittoria Di Non si sa Di Undertaker ovviamente Però questa cosa È un po' Non lo so incerta Si parla anche Di un faccia a faccia Tra i due Di un semplice faccia a faccia Si parla anche Di un match vero e proprio E secondo me Si potrebbe anche fare Un match vero e proprio Perché ragazzi Voi avreste veramente bisogno Di una Di una Di una costruzione Di una faida per giusti Contro Undertaker Cioè vi serve veramente Il faidone La Tommaso Ciampa Contro Johnny Gargano A me no Cioè ma basta che mi dici Come ci stai contro Nakamura E ci stai contro Nakamura Apposto Sono contento Cioè per me Se arriva Undertaker Arriva un arbitro E fanno un match anche di 20 minuti Sono contentissimo Mi sarebbe piaciuto Che Undertaker Che fosse arrivato Se si fa il match Domenica Ehm Se fosse arrivato Undertaker Ehm Se arrivasse Undertaker Ehm Scusate L'ultima puntata di erodo Un puntata fa Ehm Chops Lamo Tom Stavile Driver E la settimana dopo Faccia a faccia Ehm Decisione del match Ehm Chi vince vince Anche perchè Questo Questa La resta Si fa come abbiamo detto Inizio video A Ehm Come si dice Al Mercedes Superdome Superdome Di New Orleans Louisiana Dove Undertaker Ha perso la streak Quindi io Io addirittura vi dirò Mi aspettavo anche Che fosse Hall of Fame Che fosse Nella casa di Hall of Fame Undertaker quest'anno Dato che La fanno Dove ha perso la streak Per fortuna no Ehm Comunque Io mi aspetto Di sicuro accadrà qualcosa Tra i due Anche perchè John Cena Fermo non è capace di stare Ma comunque John Cena è molto più intelligente Di The Rock Perchè Ehm The Rock Doveva essere The Rock Il partner di Wonderhouse Ma Non aveva il The Rock Aveva dei film da fare Rampage Per l'appunto Andate a vedere Ehm Che ve l'abbiamo anche consigliato Nei film Nei film consigliati del mese Ma adesso non c'è niente Ehm Ehm Però lui ha detto Che aveva dei film da fare Ehm In quel periodo lì Ehm Purtroppo Non aveva tempo Tra virgolette Per Rest in Mania Ma John Cena è molto più intelligente Lui ha film da fare Ma non è un mistero Accadrà o meno The Rock Che Rest in Mania Si fa la prima settimana di aprile Qui Scusa La prima domenica di aprile Quindi questa domenica Cioè non è un Non è che di solito Ci si fa ogni A maggio A giugno Quindi tu potrei anche tenerti libero Questo Questo mese E fare il tuo cazzo di film Che danno sempre gli stessi Ehm I mesi a venire Comunque John Cena che ha lasciato fuori I suoi impegni televisivi Cinematografici Appunto per Rest in Mania Bravo John Cena Bravo bravo Comunque Allora io mi aspetto Una grandissima Rest in Mania Speriamo Ehm 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 Secondo me Secondo me Forse solo Rest in Mania 28 Potrebbe Potremmo andare in contro Perché comunque Abbiamo Abbiamo appunto Un Lesnar contro il Reigns Che abbiamo già fatto Che abbiamo già fatto Ma questo ho detto bene Abbiamo È la match card più bella O più appetibile Molto più interessante Cioè Degli ultimi anni Poi bisogna vedere Come saranno i match Esatto Appunto quello che vuol dire Si presenta dopo Se i match Fa una cagare Cazzo di WB E una cosa che volevo far notare a tutti Volevo far notare la somiglianza Tra Ronald Housy E Triple H Tazzo No Tra i match che ci sono Tra i match Ovvero Ehm Sia il titolo WWE Che il titolo Universale Vengono indifici In uno contro uno Ah si Sia il titolo È stessa cosa per il titolo Femminile Sì Abbiamo Il titolo United State E quello intercontinentale Sono Più uomini E sia Soprattutto SmackDown K.O. Hanno due match Due tag team match Non titolati Con un ritorno A un debutto Come abbiamo detto E in tutti i due match C'è sia il general manager Che il commissioner E quindi Ha noto questa grande somiglianza Che è una cosa Che ovviamente Nessuno interessa Ma comunque è una cosa Da comunque Volevo far notare Esatto Come in Ready Player One Ready Player One Ready Player One Come andrà Secondo lei 34 Mamma mia Diviso Ti ho stupiti Quindi nella vita Nella vita E voto di No Secondo me Dai Match Card è un bello 8 e mezzo Secondo me Allora Secondo me Sarà un preview Da 9 Secondo me Per prendere 9 10 Dovevano costruire meglio Anche tipo L'Andrea Giant Diciamo Qualcos'altro Che forse Non mi è piaciuto tanto Cesaro e Simus Forse Ecco Perché c'è la linea sopra Forse Se tipo Costruiva meglio Tutti i match Erano costruiti benissimo Potremmo Prendere 9 o 10 Se diciamo io do un 9 meno Quindi un 8,75 Quindi Guardate Domani NXT O stasera O Non so che giorno siamo Ah è già domenica No Guardatevi Restemegna Guardatevi Strauman Guardatevi Loro film Guardatevi Lights Out Esatto Guardatevi Anche un posto tranquillo Che andiamo vedrò domani Voglio dire che ho libero Che andiamo domani Ehm Quindi C'è qualcosa nel forno? Sì Quindi raga Cosa c'è nel forno? Non dimmi il tachino Perché la regina dice No Tipo legge Va bene C'è tipo legge nel forno Quindi iscrivetevi Quando vedete E mettete mi piace Anche alla pagina Facebook Ehm